Nel, quando abbiamo iniziato a questo percorso di ideazione e di elaborazione di temi dello sede di candidatura, una delle prime domande che noi dello staff, assieme al Comitato Artistico Organizzativo, ci siamo fatti, era, Ravenna vuole diventare capitale europea della cultura, ma che cos'è la cultura europea oggi? È possibile dare una definizione di un concetto che pensa, che vi portare a sintesi le diversità culturali in Europa? Ecco, ora vorrei rivolgere a lei che da tempo si occupa di politiche culturali in Europa questo presidio. Grazie. 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 Alla prossima. Quando parliamo di una cultura europea, mi sono diventata un po' nervosa, perché perché credo che la cultura europea è solo la diversità di molte, molte, molte culturali diversi e definire quello che è in ogni paese, in ogni città, è qualcosa che deve arrivare da quella città. Quindi innanzitutto grazie, da dove iniziare? Come iniziare? Una bella domanda. Quando si parla di cultura europea divento sempre un po' nervosa perché la cultura europea è semplicemente la sintesi, la presenza delle diverse culture che ci sono in Europa. Quindi definire queste culture è piuttosto un compito che spetta alle singole città, ai singoli luoghi dove questa cultura si sviluppa.